Buongiorno, benvenuti a tutti quanti voi oggi alla zuppa di porro del 7 luglio. Insomma, in questi giorni sono un po' nervoso per la questione dell'immigrazione e non solo, perché non ci vuole un genio per capire quanto siamo deficienti, non ci vuole un genio per capire che il politicamente corretto è una minchiata, basta leggere Ricolfi, che è un genio, ma basta fare 2 più 2, come non ci vorrà un genio per capire che le nuove norme anticorruzione saranno un disastro, come non ci voleva un genio nel capire 2, 3, 4, 5 anni fa che il redditometro era un disastro e poi ce ne accorgiamo dopo 5 anni, facciamo i disastri, alcuni se ne accorgono e dopo 5 anni ce ne diciamo ma peccato abbiamo fatto questo disastro, ma si sapeva, si sapeva che l'immigrazione sarebbe stato un problema per l'Italia, si sapeva e si capiva che tutto il resto dell'Europa ci avrebbe chiuso fuori e ci avrebbe reso una grande zatter in mezzo al Mediterraneo piena di immigrati che sono persone che non possono lavorare soltanto da noi, che vengono in Italia perché sperano di andare in Europa, ma l'Europa si chiude, non ci vogliono dare i loro porti, non ci vogliono dare i loro confini, chiudono Schengen, insomma restano in Italia. Voi potete pensare cosa vuol dire 250.000 persone in Italia senza lavoro che stanno nelle cittadine italiane e dicono diffusi 8.000 comuni, uno di voi mi ha scritto su Facebook e mi ha detto scusami 8.000 comuni diffusi, tu calcola che già 5.000 comuni c'hanno meno di 5.000 abitanti, quante persone possono prendere comuni sotto i 5.000 abitanti? Il ministro degli interni queste cose lo sa, tant'è che il ministro degli interni ci prova, ma l'Europa se ne fotte. Oggi la teoria dei giornali di centrodestra, libero, scusatemi, verità e il giornale, è che ci sia stato un patto scellerato tra Renzi, Merkel e all'epoca non c'era Macron e l'Europa per dire siate un po' flessibili sui conti economici dell'Italia e noi accoglieremo gli immigrati, cioè ci siamo spartiti e abbiamo fatto questo patto scellerato. Non so se questo sia vero, ieri Labonino, che ne dice di tutti i colori, dice ah, bianco e nero, insomma cambia idee, come ha cambiato anche posizioni politiche, dice che c'è stato un grande patto di Renzi nell'accettare gli immigrati, io non so se questo sia vero. Io quello che dico è che oggi l'Europa certamente se ne fotte e che questo scambio, non so se ci sia stato, però i giornali di centrodestra lo evocano. Ovviamente il vertice di Tallinn, come sapevate benissimo e come avevamo immaginato, non è servito assolutamente a nulla. Divertente una notizia che forse è una fake news, però siccome la pubblica il Corriere della Sera, io stima del Corriere della Sera, soprattutto delle brevi, dico è incredibile. Il Corriere della Sera ha una notizia di 10 righe in cui dice che a Damburgo, dove si sta tenendo il G20, dove ci sono stati scontri con i black bloc pazzeschi, lo leggete oggi su tutti i giornali, in questo box del Corriere della Sera, c'è scritto che Trump non ha trovato un posto in albergo perché ha prenotato troppo tardi. Io questa la trovo una cosa stupenda, una notizia su cui avrei fatto dei fogliettoni. Il Presidente della Repubblica Americana non trova un posto in albergo al G20. Oh, è male organizzato il G20 o è male organizzata la Casa Bianca. Una delle due, comunque, è una storia favolosa che merita più di 5 righe. Trump non ha trovato un posto in albergo ad Hamburgo. Lo trovo io, faccio un booking, capisco che forse lui non può fare un booking, ma cazzo è il Presidente della Repubblica Americana che non trova un posto in albergo ad Hamburgo e deve andare a dormire, si dicono, al Senato. Andiamo sulle cose serie, si fa per dire, sono farse, nulla di nuovo sul fronte del PD. Ieri c'è una direzione, non è più mandata in streaming, non è più online, la direzione finisce con degli scontri incredibili che si leggono sui giornali, Franceschini, Orlando, Emiliano che non si presenta, eccetera. Come finisce la direzione? Con una mozione. Come è votata nella mozione? All'unanimità. Chiusa la parentesi, fottiamocene di cose che interessano soltanto i dirigenti del PD e alla gente non interessa. Votata all'unanimità. Insomma, pagine e pagine sulle divisioni del PD. Pagine e pagine correttamente sul DDL, corruzione, anticorruzione, che è una minchiata. Il titolo migliore oggi lo fa libero, ve lo leggo, e basta un sospetto e ti sequestrano i beni. Se pensate che io sia esagerato, ne riparliamo fra due anni da oggi, da quando ci sarà in campo questa norma, vedrete amministratori locali che non sono pagati, sindaci, assessori che prendono 800-1000 euro al mese, che rischieranno l'abuso d'ufficio, le cause, gli appalti, la corte dei conti, il danno eradiale e tutto, e adesso rischieranno pure che gli tolgono tutto quanto. Faremo soltanto dei disoccupati amministratori locali. Cioè, il mondo del futuro sarà che la politica la potrà fare soltanto chi non ha nulla, nulla da perdere. Nel lui, nella famiglia, nei parenti. Questo è il concetto che noi vogliamo. Con la parola onestà, 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 ci fotteremo il nostro futuro. A proposito di questo, interessante oggi un'intervista a Benemino Gavio, cioè sulle pagine economiche dei giornali, compra una società di costruzione in America per 60 milioni, è quella che ha fatto l'aeroporto JFK. L'intervista la fa Repubblica a Benemino Gavio, mentre sul Corriere della Sera c'è soltanto la notizia. Una delle cose che c'è scritta in queste 20 righe di un'azienda italiana che compra una società di costruzione all'estero, sapete qual è? Che il codice degli appalti che è stato fatto, quell'altra minchiata, quando noi facciamo le leggi, le facciamo con i piedi, nel codice degli appalti chi ha una concessione autostradale non può farci i lavori sopra. Ovviamente questa sarà una cosa per la concorrenza, per la trasparenza contro la corruzione. Sapete cosa succede? Che Gavio cosa deve fare, siccome ha le concessioni autostradali? Licenzierà e avrà 2044 esuberi, c'è scritto oggi sul giornale, per le sue società di costruzione in Italia che non potranno costruire dove? Sulle autostrade che ha lui, e quindi perché? Dobbiamo mantenere la concorrenza e dovrà andare a comprare aziende, e questo benvenga negli Stati Uniti, in cui lavorano i dipendenti degli Stati Uniti. Genialità! E in Italia ovviamente le società di costruzione porterebbero, non so, dei francesi di Vinci oppure di aziende francesi che verranno in Italia e che tra l'altro non fanno venire le nostre società di costruzione in Francia perché sono loro che costruiscono in Francia. Questa è la genialata di questi cazzo di parlamentari che fanno le leggi soltanto perché devono rispondere ai titoli di due o tre giorni che gli faranno il Fatto Quotidiano in Repubblica che diranno grande norma contro gli appalti, contro la corruzione. Basta con questi titoli, con questi slogan, facciamo lavorare le aziende invece di metterle nelle condizioni di dover scappare da questo paese. Difficile da pensare? No, facilissimo, ma noi continueremo a far così. Un'altra norma assurda era il redditometro, non ci voleva picco della mirandola per ricordarsi quanto il redditometro fosse stato osteggiato dal sottoscritto, si parva l'ICET, ma da tutti quanti gli osservatori diciamo un po' sani, liberali di questo paese perché va a vedere nel dettaglio la vostra vita e poi serve a poco. È stato un flop il redditometro, l'ultimo anche perché sono stati fatti pochi accertamenti, l'invasività era incredibile, vogliono anche sapere, non so, il diamante che io regalo alla mia amante. Questo è il tema della privacy, no? Come Facebook vogliono fare, come voi, come noi, tutti quanti controllati da questa specie di grande fratello che però a differenza di Facebook lo usa per capire se il tuo tenore di vita è un po' superiore a quello che guadagni, che può succedere per mille motivi, non c'è un dato statistico che lo indica. Ma comunque lasciamo perdere. La cosa fondamentale è che il redditometro ha fatto recuperare il gettito per 2 milioni, cioè abbiamo messo un bazooka di queste dimensioni in mano all'Agenzia delle Entrate per recuperare 2 milioni. Il redditometro quindi oggi, solo le 24 ore apertura, va in pensione. La cosa straordinaria è che oltre ai due pezzi in cui raccontano la pensione del redditometro e il fatto che comunque l'anno scorso c'è stato un grande recupero fiscale nonostante il redditometro non sia stato utilizzato, oggi sapete che cosa leggo? Leggo che sul Sole 24 ore un pezzo di Aiorio, che sarà un grandissimo giornalista del Sole 24 ore, che dà il senso di come il giornale degli imprenditori e della Confindustria ha questa cattiva coscienza di dover far dimenticare che è il giornale degli imprenditori, dei commercianti, dei professionisti, delle persone che producono reddito e che vengono considerate evasori dalla sinistra ben intellettuale di questo paese. Questa cattiva coscienza fa sì che i giornalisti del Sole 24 ore nella fattispecie sul redditometro mi spieghino che è assurdo abbandonarlo perché è come avere un modello nuovo di auto, il primo modello non ha funzionato, il secondo l'è migliorato, il terzo è diventato perfetto e che fa il terzo lo lasci nel garage e non lo fai funzionare perché non sono andati bene più di due modelli. E questo è il caso del redditometro. E ancora, l'ultima riga di questo pezzo dice che il redditometro viene abbandonato per un motivo di consenso politico. Al giornalista del Sole 24 ore non sfugge che forse in questo paese c'è anche una questione di libertà, c'è una questione di privacy, c'è una questione di invasività dei controlli delle agenzie e delle entrate. No, non c'è questo. Questo lo pensano soltanto gli evasori o lo può pensare anche un liberale che pensa che in questo paese lo Stato è al nostro servizio e non siamo noi al servizio dello Stato? Forse uno che ha beccato sempre il suo stipendio in busta paga con la ritenuta dal suo datore di lavoro che peraltro è l'imprenditore industriale cattivo che fa quei soldi con le fabbriche non si rende conto che cosa voglia dire in questo paese avere un fisco e una burocrazia fiscale disastrosa come quella che abbiamo. Vabbè, di questo ne abbiamo parlato. Codice del Parti, corruzione, Trump che non c'è la cosa, addio il redditometro. Di che altro dobbiamo parlare? Beh, la cosa che mi fa scandalosa è quella che ho letto oggi soltanto sulla prima pagina del giornale e cioè che l'uomo che avrebbe incasinato giudiziariamente Maroni per le indagini sui suoi viaggi in Giappone un po' qualche casino lì fu fatto beh, lo stesso capitano del Noi che aveva cambiato le carte in tavola nelle intercettazioni Consip sul papà di Renzi cioè che l'aveva fatto pare in maniera dolosa. Bene, la stessa cosa sarebbe stata fatta su alcuni sms di Maroni ed è lo stesso capitano Scarfato. Beh, se così fosse anzi, è così è uno scandalo che soltanto il giornale si ricorda di questa incredibile manomissione da parte di un servitore dello Stato altro che enorme anticorruzione. Questa è la corruzione da colpo di Stato l'idea che un carabiniere possa cambiare un'intercettazione per fottere prima il Presidente del Consiglio e poi dopo il Presidente della Regione più importante d'Italia. Questo è uno scandalo. Ultima cosa ieri al Premio Strega ho votato ho votato ovviamente la perdente come sempre mi capita molto divertente il libro della Ciabatti che racconta Roma la destra la ricchezza la sconfitta della ricchezza la perdita dei soldi e dall'altra parte invece ha vinto Cognetti che racconta le otto montagne il viaggio a Catmantù e la forza spirituale di rifarsi una casa mattone su mattone con il suo amico di infanzia a 2000 metri sopra un alpeggio alpino. Beh, insomma mi è divertita prima di più la Ciabatti l'ho votata ma non è servita a nulla è arrivata a seconda meglio di niente vi do un saluto vi faccio vi do appuntamento a domani come sempre ciao François che vedo che mi saluti per ultima ciao